Buongiorno a tutti, buon lunedì e buon inizio di settimana e benvenuti nel canale di pensioni e aggiornamenti. In questo video vediamo quali saranno gli aumenti ufficiali a partire dalla data del primo gennaio 2025 per via della rivalutazione. Prima di visionare il video come sempre vi invito ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Vi invito inoltre a lasciare un mi piace all'interno del video per continuare a supportarci. Grazie. Numerosi pensionati si aspettavano incrementi più consistenti per il 2025 soprattutto alla luce dell'aumento del costo della vita che ormai alle stelle. L'incremento medio è stato già giudicato da molti come insufficienti rispetto alle aspettative alla situazione attuale. Ad alimentare l'insoddisfazione è stata ad esempio la notizia dell'aumento delle pensioni minime che ammonta soli 3 euro mensili. Come già detto in un video precedente anche all'interno della stessa maggioranza soprattutto Forza Italia e altri partiti hanno richiesto un intervento più deciso per migliorare le condizioni di vita dei pensionati a basso reddito. Ciò nonostante è previsto che una buona parte dei pensionati in Italia subirà degli aumenti a partire dal primo gennaio 2025 in linea questo con le politiche di adeguamento al tasso dell'inflazione fissato all'1,6% per il 2024. Gli aumenti delle pensioni di gennaio 2025 dunque saranno i seguenti. Chi avrà un incremento maggiore secondo le nuove disposizioni le pensioni fino a quattro volte il minimo circa ovvero 2394,40 euro lordi aumenteranno del 100% del tasso dell'inflazione ossia dell'1,6%. Le pensioni comprese invece tra le 4 e le 5 volte il trattamento minimo ovvero tra 2394,40 e 2993,05 euro lordi avranno un aumento del 90% del tasso dell'inflazione quindi dell'1,44%. Per quanto riguarda invece le pensioni tra le 5 e le 6 volte il trattamento minimo ovvero quelle che vanno da 2.993,05 euro a 3.591,66 euro lordi l'incremento sarà del 75% del tasso dell'inflazione ovvero l'1,2%. Le pensioni che superano 6 volte il trattamento minimo ovvero oltre i 3.591,66 euro lordi aumenteranno del 50% del tasso di inflazione pari allo 0,8%. Non solo sono previsti anche incrementi fino a 53 euro mensili per alcuni pensionati che riceveranno un contributo aggiuntivo sull'assegno mensile erogato da IMSS. Ora facciamo qualche esempio per quanto riguarda gli aumenti delle pensioni se venisse confermata un aumento per la rivalutazione pari all'1%. L'invalidità come già visto in un precedente video salirebbe di soli 3 euro ovvero da 333 a 336 euro. L'assegno sociale invece da 534 euro a 540. Per quanto riguarda invece le pensioni se aggiungiamo l'1% una pensione da 1.000 euro salirà a 1.010 euro, una pensione da 1.500 euro salirà a 1.515 euro e una pensione da 2.000 euro a 2.020 euro. Quindi incrementi davvero ridicoli. Voi cosa ne pensate? Fatecelo come sempre sapere qui sotto nei commenti del video. Grazie.